Ciao, oggi a Villa Sant'Uberto in compagnia di Wish parleremo del Basset Town. Nonostante l'origine inglese della razza, pare che le radici del Basset Town provengano dalla Francia, dove già da tempo esistevano razze di tipo Basset. Furono infatti i monaci francesi ad allevarli nel Medioevo per cacciare nel fitto sottobosco tenendo il tartufo vicino al suolo. La razza ebbe successivamente il suo massimo sviluppo e perfezionamento in Gran Bretagna. Segugio ha gambe corte di considerevole sostanza dalle grandi qualità. Forte, attivo e capace di grande resistenza sul campo di lavoro. L'altezza algarrese è da 33 a 38 centimetri. Il pelo è liscio, corto e fitto senza essere troppo fine. Il colore è generalmente tricolore, cioè nero e bianco con focature, o bicolore, cioè bianco arancio, ma sono ammessi tutti i colori degli hound. Si dimostra dolce ed affettuoso con tutti, anche con gli altri animali di casa. È infatti famosa la Bassetown che ha adottato e allattato una cucciolata di gattini e per questo motivo le hanno dedicato splendidi articoli su noti giornali. Per oggi è tutto, vi salutiamo, seguiteci sul nostro canale YouTube.